Ciao ciao dal canale Nikita. Oggi cuciniamo una torta per cani in forma di maialaccio. Sì, il nostro avvicino aveva due anni. Io sono mamma di Nikita e mi chiamo Masha. Io ora sono il maiale. Un piccolo maialino. Siccome i cani mangiano carne non possiamo fare torta dolce. Facciamo torta con carne, è vero? Con sopra salsicciotti. Questo. Iniziamo dopo. Iniziamo a preparare la base. Va bene? Questa è la nostra formina. Sono capace di aprire l'olio. Dai, provala. Adesso metti al forno. È bello caldo. Mettiamo al forno. Atento a non scattarti. Ti aiuto io, dai. Ma sei pronta la nostra torta? Dai, vediamo il nostro maiale. Oh, hai di carne! Sì! Carne! Allora abbiamo preparato la torta per il nostro cagnolino Molli. io lo sto mangiando Nikita non mangiare Worcester costitiamo i truffelli di pistole caro Durani guallicino vieni qua a mangiare la banana non la mangi soffia aiutalo Nikita grazie grazie gusta ne io volevo ora ho come sono giorni anche ho detto a Isabella che è questo? perché mi piace, pensi che sono... wow! vuoi fare il piso vuoi fare il piso non ci vuole ciao tutti dal canale Nikita con conflano no! canale ciao! iscrivetevi a tutti i canali i canali Nikita